Ehi amico, sono passato a vedere se stai bene, ho sentito che non ti sei lavato per 11 giorni? Vuoi che mi faccia una doccia in un momento come questo? Sono nel bel mezzo di scoprire la lore segreta di Pizza Puzzle! E questo è quello che stavi facendo? Ma non c'è nessuna lore in Pizza Puzzle! Che cosa cazzo hai appena detto? La prima pizza che prepari nel secondo livello, guarda, ha nove salamini! Già. Piuttosto interessante considerando i nuovi imprenditori che hanno aperto la pizzeria e il secondo è morto il giorno dopo! Ok, magari era un pessimo guidatore. Ma non è finita qui amico, ora osserviamo questo delizioso calzone sullo stesso livello, se lo tagliamo a metà possiamo notare una macchia di grassone assomigliante allo stesso imprenditore! Ok, voglio essere sincero con te amico, penso che ci stai pensando troppo, il gioco è solo una riskin di Tetris con le pizze. Sai cosa? Ecco, tieni, leggi pure la wiki. Va bene, ma non credo che mi farà cambiare opinione. Coso, lo sapevi che la macchina del fax nel livello 4 sta scrivendo in codici e sta lentamente scrivendo il nome della famiglia mafiosa che possiede gli ingredienti che vengono usati in pizzeria? Oh amico, questo è solo l'inizio, comoditi pure! Ciao! Ciao! Grazie a tutti